Insomma, lei potrebbe lasciare un buon ricordo, no? Stiamo cercando di capire se possiamo far bene, perché non è facile far bene ad Abu Dhabi. Perché? La Ferrari soffre il caldo, le gomme si consumano prima. Si consumano come quelle degli altri però, gli altri tipi. No, le nostre alla seconda curva diventano squacquerone, no? Ma come squacquerone? No, vabbè, no. Infatti gli altri si portano sempre il crudo e la rucola. Ma in che senso? Così quando ci superano, tirano fuori la mano con la piadina aperta e raccolgono lo squacquerone, no? Un po' come la manata sul culo di Memo Remigi, solo con la manata si fanno la classica romagnola. La piadina, certo, così. Mamma mia.